un po com'è andata ognuno si l'avevo intuito però com'è andata se con poi che non spavano più chiamo erica non urlare porco dio non ho capito il cazzo porca la madonna oia e vado a loro buono 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 quelle sotto sono vero non bello sono quelle sopra su quelle sopra pietro dopo vuoi puoi puoi oltre tutti che non abbiamo non ne abbiamo un dolore modo per fare teoria si fate torte un gruppo non ci mettiamo tre ore a fare l'ora con le torte con le torte e lo so però per il momento per un gruppo un livello 150 potrà fare 50 torrette il colore so da cendo ammetto che non danno la trovoce poi vedo si perchè dovresti prendere torte poi vai per n per n ciclo per n con le torte quella che dicevo io la stagia però se non hai le torte no io non mi è mancato per niente lo so lo so è tornata erika e ti fa un bordello porco dio erika che erika mi manca le tizze con quella voce d'augur no letizia sta hackerando al il titolo di te sta mettendo cose sul facebook di tommy perchè è stronza e tommy ha fatto il facebook acceso l'altro giorno uno di mio amici ha scritto sulla pagina di facebook nella sua nella sua baghera mi piace il cazzo tra la la infatti cosa del genere non sto parlando con te dio cane no ho scopato l'altro giorno siiii si non avete ancora fatto eh no mi è rimasto innamoratissimo ah eh cosa hai detto scusa noi stiamo facendo il video e guardate c'è un suo bordello siii ho sbaglio innamorato una è soccata si hanno due colpi 4 anni 4 anni non si ricorda le cose al massimo non chiederlo apri dodo x sui ricordi verdure l'addente da baffanculo mi sa che con le fisiche conti risultati a lodi ed ha finito migliore questo il cazzo guarda domina dove mario notte di testi quello che ha finito i colpi di solito oh l'ho fatto il petto cambia l'armo le ho portami anche delle armi di riserva oh ma ci sta ammazzando il gufo sei qui non ce ne sei accorto un hit muore oh mio dio ma ce l'hai accanto non lo senti bestemmiare questo gufo e beh grazie curalo ti do il petto blocca un secondo per andare non mi serve per andare no no però magari torna pensavo che aveva finti colpi infatti sono e carne nel ma la gamma perché sto cosa non importa non importa ah sì ok è vero perché ha capito sì ho carne sicuro però boh se ha quando ho visto non serve non serve la carne quando curi però si sa ci sta una vita di cura stami ti dico una scheggia ho voluto li fanno lavorare in un'azienda cazzo è scusami di infissiari ma non ti fanno mettere proiezione negli occhi fanno fare caso al tuo principale giustamente avranno avuto 250 colpi a torretta ma mi spiegate un attimo cosa state facendo è un mese chiamare tale ok riesce si no ma chi sta mettendo colpi si davvero i colpi del cecchino dove sono no raga cosa sta succedendo non c'è più non c'è più roba in base vedi non c'è più roba adesso adesso sta morrendo tutto sta morrendo tutto carne cazzo il terezino male porco dio non ci sono più bacche è la pochetta gli animali è andata a fare uno fa bacche cioè io veni il male da me adesso gli metto un po' di bacche un po' di carne si sta rifillando le torrette quel figlio di puttana però non ho si cazzo di colpi di cecchino dove cazzo sono per sparare del nudo vado a prendermi vado a prendermi non vai andare a Matteo che te ne vai tu io poi rimango da solo con un buffo e un trike non voglio venire l'hp2 morto ok questo è veramente bed ci sono quanti animali da voi che fare non fa il tempo vuoi tanto basta che muore solo il damage e poi è finita no no ce l'ho qua il damage peccato per l'hp cazzo anche qualcuno ha un trike maschio da costruire il mio portare una cliff una metal cliff ah lì si può costruire mi sa si possiamo andare avanti grazie perché arrivare lì con il trike rischio sempre ricadere senza parlare che poi per tornare indietro non posso curvare oh hanno fatto saltare le turret ecco mano 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 siamo 18 contro 18 mana adesso come contro 18 mana si si prendete le piante hanno fatto saltare l'auto turret steve hob si ho visto certo conterei sono nell'isola sono nell'isola corretta si 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 non ho piante però e io anche io lo finì ah boys what's he doing mi serve una mano però qua c'è non ho piante il problema è quello devo recuperare stamina sono oh pio clac si è sicuro sono attivi hanno le dolette loro hanno le dolette loro got your set up got your set up now Occhio a Toretta! Faccio io, faccio io! Faccio io, faccio io! Occhio a Toretta! Occhio a Toretta! Cazzo è nato! La Toretta non mi spara! Ma ce ne sono una di Toretta! Sì, lui colpisce! È davanti a me! Eh sì, ti ha spaccato l'arco! Da adesso! Secondo me a fine di colpi che lui sono davanti alla Toretta! Non mi spara! Sì, ti seguo ma non ti spara! No, no, non spara! Ah, e finiti colpi! Finiti colpi adesso! Finiti colpi adesso! E io fino alla cesta invece! C'è un'altra, c'è un'altra! Nell'acqua! O è la nostra? No, è una nostra in acqua, ma se non spara è... La guardo subito, la guardo! Sta continuando a sparare! È stata retta di merda, porco diazzo! È la nostra quella in acqua! È la nostra! A 180 golpi ancora! Spara! Spara ma va letta! Adesso! Ha lagato brutalmente! Se ho subito la volante! Che dico! Sì? Buono! Buono Lorenzo! Buono Lorenzo! Buono! Non usare il lanciafiamme! Genio del male! Non li fai una sega! Non usare il lanciafiamme! Genio del male! È nell'acqua! Sta scappando! Sta scappando! Bello che è morto questo! Aspetta! Allora, appena ammazziamo questo... Bobs! 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 Bel video log! Perché la sella è scomparsa instant? No, no, no! Appena è morto è scomparsa la sella! Chiederci! Che ce l'hai tu? No! Non è che... Hai una cesta in più, per caso! Hai una cesta in più! Ragazzi, dov'è il Bronto per far back? Abbiamo il Canduro! Aggiornali! Ci sappiamo noi? Ah, ok! Vabbè! No, 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 no! Ho scappato l'altro! Sì! Sei te... Sì? Eh... Era la only player, mi sei stato retto! Porco Dio! È la only player, l'altro retto! Ovviamente! Si è buttato sopra la scelta! Eh... Non... Non trovo neanche il Canguro! Eh... Non è nelle Pokéball il Canguro! Cerca in basso! Ah, ok! Cazzo! Non hai dire che abbiamo il Canguro! L'ho trovato una settimana fa! Sì, no! Lo cercavano nel frigo del farming! Ma c'è una tartaruga qua in base! Nemica! Sì! L'ha tirata loro! Dove? Però non ci stai sparando! Sotto! Il velona però non gli sparano! Sotto! Il.... ... Sotto! È tutto? È... ma adesso tanto la vedete sparire e però ne sono attivate lo che stanno attaccando noi attaccano in base non è che si dice molto otto non è che c'è la fobia chiaro no non ho fettie dove cazzo canguro di merda porco dio grazie ok sapere un bel basso accorto ditemi dove cazzo sto congur che non riesco a far parte sono o a capare degli usabili negli usabili perchè non ho lasciato degli usati come se non lo parco da farming c'è uno proprio con su scritto farming è un animale da farming lasciate in una roba di cazzo non lo chiede una settimana e serve una roba di coglioni per il suo cazzo di canguro e fa quello che devi fare e non c'è negli usabili esso per lì quanto succedo starà scrivendo canguro nel cazzo di filtro figene ascolta non c'è dentro quello lì ora di dentro e sotto dentro una forza si era dentro una forza mi sta sul cazzo che siamo non lo so ma dov'è sta tartaruga l'hai uccisa? ma adesso dovrebbe morire ci sono i peloni in stato a sparargli di sotto dovrei continuare a soccarare queste cose qualcuno che può tornare lì da saturs? qua abbiamo ancora un gruppo animali cazzo mazzi ci sono solo io non ce l'ho neanche io non ce l'ho neanche io non ce l'ho neanche io cosa state facendo voi due vaga e quindi cosa avevo una flac o un'arma? cosa cambia? ma che cazzo ti frega ti è terzo addosso qualsiasi roba hai addosso con te che pesa troppo? scusa mi guarda i tecchi soli? come vai ragazzi ma che cazzo dobbiamo fare che sono qua fermo? tu sei in base da tre ore a fare due torte e due colpi di cecchino in merda mi sono venuti a prendere io colpi di cecchino eh ma mica eh eh sì è una cosa ridicola cioè una cosa ridicola cambia anche l'arma perché ce l'ho scerdata dall'altra un po' ritere di vecchiaia prima ancora di rendervi conto che siete naci per quanto cazzo siete lenti ma l'uomo di Neanderthal era così ritardato non è che sei stinto c'è la seconda volta che scambia i ragazzi di quanti della riverna con i così sì fare un picnic dove stavamo validando così faccio io ma perché non mi togli floating name adesso? che gioco di merda perché mi serve uno che sa cichinare che gioco di merda ma che cazzo dio povero che è morto anche sto ma che cazzo ma che cazzo